Avvocato, si torna a parlare del caso Suor Soledad, un articolo pubblicato questa mattina su Un Quotidiano parla addirittura di un colpo di scena in questa vicenda giudiziaria. Vogliamo far chiarezza al momento qual è la situazione? La situazione che ho appena letto l'articolo e dirò subito che valuterò la possibilità di procedere a un'acquarela per diffamazione a mezzo stampa. L'articolo, in vero, dice cose che sono contrarie alla verità. Dice cose, innanzitutto qui dobbiamo subito far capire che la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno, è stata impugnata dalle parti civili e i soli effetti civili. Anche perché il procuratore generale, espressamente richiesto dalle parti civili di interporre appello, depositò un atto motivato con il quale, ritenendo che la sentenza fosse stata emessa in modo del tutto regolare, non volle interporre la impugnazione. Di modo che noi abbiamo sostanzialmente una impugnazione delle parti civili e i soli effetti civili. Dirò subito che la responsabilità penale è chiusa perché la sentenza è irrevocabile. Irrevocabile vuol dire che è chiusa. Quindi le sentenze di condanna per otto anni di reclusione messe in danno di sorso le dadde, di un anno e sei mesi, in danno delle altre due consorelle accusate solo di favoreggiamento, è oramai irrevocabile, chiusa. Ora, nel giudizio di Cassazione, che pensate bene, si è tenuto il 17 aprile del 2017, la sentenza, contrariamente a quando dice l'articolo, dobbiamo leggere, la sentenza è stata depositata, io ce l'ho qui, il 14 maggio di quest'anno, cioè le motivazioni sono state depositate dopo 13 mesi in violazione di qualsiasi normativa legale, il termine è 90 giorni, il termine è massimo, dopo 13 mesi è stata depositata. Ora, qui abbiamo una sentenza che ha effetti solo sulla responsabilità civile. Giusto per far capire, insomma, i nostri telespettatori, le parti civili possono richiedere, come dire, risarcimento danni? Sì, quindi attiene solo a un eventuale risarcimento danni. Poi, rispetto al processo, è stata accolta solo per una parte. Voi ricorderete che lì le ipotesi erano due distinti procedimenti, uno nei quali si assumeva che gli abusi avvenissero all'interno dell'asilo e un secondo procedimento che invece riguardava fatti che si sarebbero svolti al di fuori dell'asilo. Ora, per questo secondo troncone, noi abbiamo detto primo troncone, secondo troncone, la Cassazione ha rigettato i ricorsi delle parti civili e li ha accorti solo per la prima parte. Ma l'accoglimento, questo che mi preme evidenziare, l'annullamento è avvenuto soltanto per vizio di motivazione e non come sembrerebbe, leggendo l'articolo, è stata acclarata la responsabilità. La responsabilità di che? La responsabilità dovrà essere valutata nuovamente dal giudice civile cui è stato rinviato il giudizio. Quindi, anche da questo punto di vista, cioè ai fini della responsabilità civile, l'annullamento riguarda vizi della motivazione perché la Corte di Cassazione è qui, purtroppo qui le questioni sono molto complesse e non è semplice farle capire. Ritenendo che il giudice di appello, che ha riformato la sentenza, cioè qui vi sono due principi giurisprudenziali, uno secondo il quale il giudice di appello che riformi una sentenza del giudice di primo grado ha un obbligo di motivazione cosiddetta rafforzata, cioè il giudice di appello deve spiegare bene perché ritiene di dover sostituire l'apparato argomentativo contenuto nella decisione di primo grado con altro apparato argomentativo che si sostituisce a quella di primo grado. Peraltro la stessa Corte dà conto che sul punto vi è un contrasto in seno alla stessa Corte di Cassazione perché questo è un principio e poi viene un altro disegno opposto che dice questo è vero, ma quando il giudice di appello condanna, emette una sentenza di condanna quando invece il giudice di appello assolve, questo principio non si applica più perché se condanna allora il principio da applicare è quello che il giudice condanna al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma se il giudice assolve basta che l'ipotesi accusatoria sia inficiata da contraddizioni, sia insufficiente e quindi come vedete la cosa più straordinaria di questa vicenda processuale è che questo contrasto esisteva in seno alla stessa sezione della Corte di Cassazione che è la terza sezione penale, quindi la Corte di Cassazione ha semplicemente detto contrariamente a quando abbiamo detto in un'altra sentenza per il quale era stato applicato questo secondo principio secondo il quale quando assolvo io non ho obbligo di motivazione rafforzata quindi contraddicendo se stessa ha emesso una sentenza di condanna, dice no quello è preferibile il primo orientamento. Quindi immaginate ora il giudizio è stato appena riassunto in sede civile ed è stata fissata un'udienza per il 23 maggio dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno nella quale si discuterà sulle eventuali responsabilità civili che dovranno essere accertate dal giudice di appello, dal giudice di rinvio. Quindi questa io mi rendo conto che purtroppo non so quanti capiranno quello che ho detto, però purtroppo le questioni sono estremamente complesse. Cerchiamo di far capire in parole semplici, quindi se chiuso il processo penale ora inizierà quello civile, eventualmente saranno come dire accertate delle responsabilità, ma lei cosa si sente di dire in questo momento? Questo prosieguo che valore potrà avere. Allora qui innanzitutto io direi proprio perché le situazioni, i principi di diritto stiamo in un punto nel quale nel giudizio di rinvio, solo per far capire, io che sono un operatore pratico, dopo 35 anni di progetto, è la prima volta che mi capita un caso così complesso e così complicato, peraltro il giudice di appello, noi ancora non ho compreso qual è la regola del giudizio che dovrà applicare? Se quella che vale in sede penale, che il giudice condanna anche al risarcimento laddove si ritenga i soggetti responsabili al di là di ogni ragionevole dubbio, oppure la regola del giudizio di un normale giudizio civile che è quella del più probabile che non. Quindi si figuri la complessità, ora io direi di affrontare queste cose, io inviterei le controparti alle quali è sicuramente ascrivibile l'articolo, o quantomeno che lo hanno sollecitato, che non incominciassero come hanno fatto con questa pressione mediatica sul giudice che dovrà decidere il caso, che è già complicato. Quindi io direi teniamoci fuori da queste pressioni di carattere mediatico e lasciamo al giudice di decidere con serenità il caso.